C'è l'Elegant, c'è l'Elegant, c'è l'Elegant senza bastire tutti gli amici, c'è l'Elegant, c'è l'Elegant. Perché saltella è un malato vecchio fomentato. E' figata. Accomparmi, amici di Ale e io. Oh 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 non sempre lo che vuoi fare blu e nero, tamarro vero, ceno tamarra mi sono innamorato di una tipa mi sono innamorato di una dischera siamo andati alla reception, non si vedrà niente perché non so la fotocamera è presto però comunque reception mette 30 euro sulla carta li ho finiti tutti chissà dove li ho finiti chissà dove questo è il casino che ha fatto male perché ha perso le chiavi quindi Valentino ha perso le chiavi e quindi ha fatto questo casino andando all'olicore magliettina bianca e poi c'è masteria e qui c'è Vale Grazie 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 L'ultima parte di fatto, non rivedremo più questa schiaggia, tranne il resto che ci fa Questa è la situazione quando siamo andati in camera Se voi poteste sentire questo freddo Mamma mia Sto andando a suotare il marketing di caramelle perché sono buonissime Tipo quelle rosa piccoline, le finirò tutte, però sti cazzi Come uno per pazzo, mi guardano tutti malissimo però io ho bussato tipo 6 euro di caramella E che costa 1 euro e 50 al pacco, alla Conad ne compro come 6 euro e 15 Però vabbè, di là del mio cazzo Innamorato della staff Guarda come viene Piero Azzalo al cielo capitano Quindi ci tengo insieme allo staff un'altra volta a rifarvi un fortissimo applauso Siamo la White On Me, una età piena di dediche, un po' tutte, che è fomentato perché non hai scritto sei buono No, no, nati 19 anni che strafile Chiariamolo, chiariamolo Per amicizia Questa serata sto crepando di sonno E' fantastico questa cosa E' fantastico Polizia e caccia, stiamo chiedendo. Abbiamo due ore di sonno. No, quale due ore? Mezz'ora di sonno. Stiamo morando, faccio il bordello. Una parola di sonno è buono, Lorenzo che dorme. Ci hanno appena preso 50 euro. 50 euro di cauzione per nulla. Per una sedia che era già rotta, una sedia di plastica, è rotta dall'altra persona. E la stiamo fatta. La paghera è la letta dell'una per Foggia. Ma è questa? Oh, bisogna stare qui. Che ti fai? Più c'è Ted. Calma la storia. Struzione di Foggia. Prima tappa fatta. Non sto in cazzo. Ecco, questa è fatta. Non saliamo a Salerno. Un'altra battivaglia. Con l'ultima trinatura siamo a casa. Siamo. urik desarrolla.. Con l'ultima trinatura sia la tua. Grazie a tutti.